Ecco tutto quello che devi sapere sull'arrivo del Foodbird Day. Partiamo dal presupposto che inizia questo venerdì, sarà una promo di due settimane, quindi due team speciali. Ogni team sarà caratterizzato da giocatori e giocatori icona, quindi team 1 e team 2. Ovviamente ci saranno mini-release nel weekend, tra sabato e domenica, ci saranno giocatori obiettivi, probabilmente due settimanali ma deve essere ancora confermato, e ci sarà il rilascio di un giocatore al giorno, in versione speciale Foodbird Day e Foodbird Day Icon, attraverso sfide creazione rosa. Ogni giocatore avrà probabilmente l'upgrade a 5 stelle skill o 5 piede debole, chiaramente ci sarà qualche carta che avrà il doppio upgrade sia a 5 skill sia a 5 piede debole, e saranno caratterizzati principalmente tutti quei giocatori amati e apprezzati dalla community. Uno dei primi calciatori che ad oggi ancora non ha una versione speciale in FC24 è Benny Hedder, e lui, come ad esempio Menian, sono due probabilissimi giocatori che potranno avere una versione Foodbird Day. Ora, dimmi chi vorresti vedere come Foodbird Day durante questo evento. Ovviamente ci saranno evoluzioni a tema, più di una, probabilmente due settimanali, almeno una gratuita, una a pagamento, sia nella prima che nella seconda settimana di promo, ci saranno super pack promozionali nel negozio, già ve ne ho parlato, 1188+, 3083+, 85+, e chi più ne ha, più ne metta. Ah, dimenticavo, c'è anche un pacchetto che vi dà un'icona Foodbird Day garantita, ma vabbè, parliamo di altro. Ora, cosa vi aspettate da questo Foodbird Day? Fatemelo sapere nei commenti e non mancate di lasciare un like, commento e un'iscrizione per sapere tutto sull'arrivo del Foodbird Day.